Sentito il racconto di Vanessa, che ne pensa? Una bella favola, quella di Cappuccetto Rosso è più credibile, sinceramente. Ho fiducia nei magistrati e nella giustizia e spero che dopo cinque anni di inferno di quello che sto vivendo, vedere queste persone che vengono e sorridono, cioè sinceramente io non ho proprio niente da ridere, me l'hanno fatto perdere completamente il sorriso a me e a tutta la mia famiglia. Per il difensore di Giampaolo Tarantini invece la deposizione di Vanessa Di Meglio è stata un punto a favore. Quezotesti ha detto di non avere mai ricevuto dei soldi da Tarantini. Certo, il dibattimento viene fatto apposta per cercare la verità e oggi è iniziata ad emergere la verità. C'erano una serie di non ricordo però. Ma non sulle cose fondamentali. Credo che sulla domanda se ha ricevuto soldi o se l'è stato chiesto di prostituirsi, abbia immediatamente detto che non è mai successo.